Quando il video non si arrabbiamo in strada, non so vincere Buongiorno, parlerò in italiano perché questo video è per il pubblico italiano Ci troviamo a San Martino di Castrozza, sulle Alpi italiane Provincia di Frosinone Provincia di Frosinone La si trova il santuario della Madonna di San Martino di Castrozza Qua ci sono degli esemplari di gatti silvestri Gatti silvestri Qua ci sono degli esemplari di antilopi E niente, ora che finisce l'effetto della droga abbiamo finito anche il video Ciao Ciao Alla prossima droga Alla prossima droga Alla prossima droga Io se posso dare un consiglio a chi deve viaggiare non viaggiate con noi Guardate che vi tocca Ciao 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 Oh mio dio, credo di avere visto pochi posti al mondo più inquietanti di questo. Cioè sto camminando in una valle di polli. Wow. Musica. Stanno facendo pulizia dei polli. Ci sono talmente tanti polli dappertutto in questo tempio che praticamente loro li raccolgono, fanno spazio e poi li portano probabilmente in questo tempo. Sì. Ok. Le persone stanno lasciando regali, ci sono le uniformi militari, ci sono i galli, c'è la fanta alla fragola, in modo che era quella rossa. Qualcuno ha portato delle macchine perché Aikai è un bambino, quindi in teoria amo i giochi da bambino. C'è una macchina rossa. C'è una macchina rossa. C'è una macchina rossa. C'è una macchina rossa. Guarda su il trentino, ha un numero scritto, poi leggi il numero che ci sippe e poi vai su a controllare il rosso se hai il risponso. Io ho tenuto il numero 25. Andiamo a vedere. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qua è il nome di questo templo? Grazie, ora lo ricorderò meglio! Qua è il giorno? Ok, il giorno mio Tu devi dire Wato no a ma ma waa Ok? Ok, grazie Grazie Wato no a ma ma waa Ok, grazie Grazie E ora qui 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 bella